Somma Lombardo, Somma Lombardo, ti amo! Assessore Locurcio, ripartiamo dopo la pausa estiva che ha visto la Fallaci con la mostra particolare aperto per ferie e ripartiamo da Lucia Arpino con l'attività, nonostante crisi, carenze economiche, in ogni caso della Fallaci è ancora la grande anche per quest'anno. Beh sì, chiudiamo con l'estate che è calda come è stata, ci ha proposto una mostra un po' particolare come si diceva. Ma la Fallaci non ha bisogno di fondi comunali, la Fallaci è uno spazio che ormai si gestisce da solo e non ha bisogno nemmeno di soldi per poter... ha bisogno solo di talenti, di artisti che vedo sempre diversi, sempre numerosi che con tanta buona volontà e con tante opere di qualità si presentano qui in mostra. Quest'artista di oggi è veramente molto molto brava, mi piace molto questo stile, mi piacciono i lavori che sono curati con una particolarità e con un'attenzione unica. Quindi è un buon inizio proprio perché noi abbiamo bisogno di far sì che Somma sia appunto di attrattiva anche da questo punto di vista come stimolo per gli artisti e stimolo per tutti coloro che l'arte la vogliono apprezzare in tutte le forme. Pittrice figurativa, mi posso definire così, amo soprattutto la pittura ad olio perché i miei quadri sono praticamente tutti ad olio anche se ho fatto qualche altra cosa ad acquarello, altre tecniche però amo la pittura ad olio perché è morbida, si asciuga lentamente e mi permette di fare dei lavori con delle velature che sono poi quelli che faccio. Che comincio a dipingere dai 15 anni circa, ho sempre disegnato come tutti i bambini d'altronde però proprio come pittrice, come lavori fatti con l'olio, con pennelli e tele dai 15 anni circa. Artista non lo so, forse si usa un po' troppo, la parola artista e arte si usa un po' così con la superficialità, non lo so, lo devono dire gli altri. Il discorso dell'ispirazione la trovo un po' poetico ma non poi reale perché quando uno deve lavorare comunque lavora indipendentemente dall'ispirazione, se uno deve aspettare sempre l'ispirazione per fare qualcosa fai ben poco. Le persone che hanno preso dei quadri da me mi dicono che poi passano magari un giorno dopo l'altro spolverandolo, trovano un nuovo particolare e questo a me fa piacere decisamente. Somma Lombardo, Somma Lombardo, Somma Lombardo, Tiro!